Ciao a tutti, oggi sono qua con un video annuncio forse fatto decentemente sovratemi che sentite ma sono in sala quindi non sono nella mia solita cameretta chiusa e niente, ho appena finito di fare la live che troverete nei miei video la potete riguardare anche se è un pochino lunga nella quale ci siamo messe d'accordo per i vari incontri che dovrò fare questo video arriva all'ultimo ma fino all'ultimo ho avuto dei seri problemi di impegni eccetera non ero ancora sicura di riuscirle a fare vorrei che fosse un video corto in cui appunto vi spiego come, quando, cosa succederà cosa faremo sono conciata male ma non ho idea ho semplicemente acceso la videocamera mi sono cacciata qua con una lampadina non so neanche come sono truccata, come sono messa eccetera allora, gli incontri saranno 2 barra 3 nel senso, io mi troverò a Milano da martedì perché è martedì verso le 4 dovrò andare alla Fabric perché c'è il concerto di Tokyo Hotel Fury Roll bellissimo e quindi alcune delle alien che mi seguono che sono anche alien dei Tokyo Hotel le vedrò lì mi raccomando, fermatemi, salutatemi eccetera io sarò molto felice di vedervi e di salutarvi poi, altro incontro vado per date sarà il giorno dopo un incontro in Duomo di fronte alla porta del Duomo mi schiafferò lì perché non sono mai stata a Milano non ne ho la minima idea di cui neanche come sia fatta e quindi vi aspetterò lì alle 9 e mezza più o meno tanto mi riconoscete i nostri capelli mi riconoscete sarò con mia mamma perché appunto andiamo insieme noi due al concerto a Milano perché piacciono tantissimo Tokyo Hotel anche a lei quindi ci andiamo insieme e ci sarà anche mia mamma e insomma non è un incontro non sono incontri organizzati nella serie facciamo questo facciamo quest'altro un incontro solamente per conoscervi per salutarvi per quelle che possono perché capisco che mercoledì 18 sia un po' difficile per le ragazze che appunto sono della mia età e vanno a scuola però è l'unico giorno che posso stare a Milano soprattutto la mattina perché verso le 2 è un impegno come ho già detto anche in live forse un impegno forse no lo scopro lunedì sera questo video non so quando lo vede ma comunque sia ve lo dirò quando arriviamo lì perché nel caso appunto posso stare di più posso prolungare la mia presenza lì magari ci andiamo a mangiare qualcosa insieme stiamo un pochino più together se no praticamente staremo quindi mercoledì 18 dalle 9 e mezza in Duomo per un'oretta un'oretta e mezza l'importante è che io alle 11 e mezza mezzogiorno riesca a partire per tornare a casa perché alle 2 devo essere qua a Bologna quindi ripeto comunque vi scriverò tutto qua sotto mercoledì 18 alle 9 e mezza davanti al Duomo poi vi lascio il link nell'info box dell'evento che ho creato su Facebook così potete sia scrivermi in privato le domande che avete da farmi eccetera e sia potete scrivere partecipo forse no cose potete scrivere anche lì le domande secondo incontro sarà al Cosmo prof dovevo andarci due giorni ma alla fine ce ne andrò solamente uno per problemi economici vabbè e quindi quella giornata lì la voglio passare con voi la spendo per star con voi scusami se guardo di fuo ma ho il computer e sarà domenica 22 davanti all'entrata a Costituzione sì alle 10 e mezza ok 22 marzo domenica 22 marzo alle 10 e mezza 10 10 e mezza davanti all'entrata a Costituzione di Bologna Fier dove ci sarà il Cosmo prof ecco saremo in tre già io la mia amica Arin e la mia cuginetta la cuginetta più grande di me mia cugina Dania che chi si ricorda i primi video conosce benissimo e niente ci troveremo lì tutte tutte insieme e anche insomma non è proprio un incontro predefinito di cose da fare semplicemente entriamo insieme e guardiamo il libretto decidiamo che stand vedere e che stand no molto easy e sciallo quindi tranquillità andiamo a vedere quelli che ci interessano ci faremo a mangiare insieme siamo un pochino insieme e poi verso le 6 insomma finisce tutto ecco ognuno per la sua strada a casa ribadisco anche come ho detto in live che uno chi non volesse venire al Cosmoprof quindi non può entrare al Cosmoprof ma vuole semplicemente venirmi a salutare io alle 10 sarò appunto davanti all'entrata a costituzione quindi 5 secondi possiamo anche salutarci stare 10 minuti insieme per parlare insomma un pochino vi ricordo che se volete acquistare i biglietti del Cosmoprof vi conviene farlo online perché c'è lo sconto perché stanno veramente costando un casino e terza cosa chi invece non arriva la mattina ma arriva il pomeriggio ci sentiamo su Instagram io pubblicherò foto della giornata sicuro e ci incontriamo in un padiglione facciamo così e riuniamo tutto il gruppo scriverò per le ragazze che vogliono venire al pomeriggio ci troviamo tot ora al padiglione tot così ci vediamo tutte insieme per tutti e due gli incontri guardate sempre il mio Instagram perché sarà quello più più o meno più aggiornato di tutte quindi se arrivo un po' in ritardo eccetera tutto scritto lì e niente mi vergognerò come una ladra io lo so già perché sapete tutte le insicurezze che ho ho paura perché insomma non lo so mi vedete flawless perfetta carina cuccolosa davanti poi magari dal vivo boh pensate peggio di me vabbè sono insicurezze del cazzo mie ok niente quindi vi lascio anche per il Cosmo Prof il link dell'evento che ho creato su Facebook qua sotto quindi partecipate eccetera fatemi sapere le vostre domande questa inquadratura fa schifo me ne rendo conto e basta niente vi mando un grosso bacione exo aliens e al prossimo video un bacio ciao ciao